ciao a tutti amici buon appetito vado con l'andellina eccoci un po stagione e cominciamo con un fai scoba oggi ok buona visione a tutti amici passiamo la nostra grattata fai scoba 689 numero 00 il primo di un pacco e vediamo un po il banco 4 dobbiamo trovare un 10 e vediamo un po prima carta abbiamo un 9 poi abbiamo un 3 questo è un 8 continuiamo con un acqua ora abbiamo un 6 e questo è un 4 andiamo giù e vogliamo questo è un 7 qua abbiamo un 5 questo è un 8 2 questo è un 9 ma 10 niente niente da fare adesso e fondiamo con un 3 noi abbiamo 10 ok continuiamo continuiamo con un 10 per allora 41 28 35 e 23 questo è il numero 18 grazie 87 ma prima numero abbiamo un 14 38 non c'è 33 34 e 12 niente ora abbiamo 32 che l'abbiamo inversa 36 36 35 l'abbiamo presa 29 e 19 35 ci dice 2 euro che riveste i bigliettini intanto non è perdente passiamo a porta fortuna mini numero 71 della serie 7 allora simboli vincenza abbiamo preguita corno fragola e portiera incominciamo con la corona poi abbiamo il sole l'anello e il diamante niente poi abbiamo l'elefante no non c'è il ferro la stella e la tartaruga niente per 2 abbiamo i soldi ed il lingotto per 5 niente da fare e il fogliotto numero 71 non cio passiamo anzi passiamo a un dolce natale numero 19 guarda serie 43 allora cominciamo con il fuoco pacco regalo renna e flitta Primo simbolo, abbiamo un raggio, abbiamo l'albero, la tombola e il pugilobo. Continuiamo con un guanto, questo è il pattino, la trombetta e la campana. Qua abbiamo la stella, la ghirlanda, il cappello per finire, la candela. Niente da fare, il buglietto numero 19, della cosa 43, non è buon tanto amici. Adesso abbiamo un Eldorado, le ricette di Eldorado. Ok, allora questo è il numero 31, della cosa 87. Ne vediamo un po'. Cominciamo a 19 e 12, i nostri numeri vincenti. Poi sacchetto e collana. Cominciamo con un 16. Ora abbiamo la sabbia, 21 e seguitamente, 22, questa è la cartina, 14 e 24. Abbiamo un pentolone, questo è un lingotto, 15 e diamante, niente. Combinazione bonus, pappagallo che non abbiamo e 13 che non abbiamo. Biglietto numero 31, non è buon tanto. Ok, continuiamo con i cuccioli, serie Fellina, numero 23 della serie 56. Partenza, sotto, destra, sotto, destra, sopra, destra, sotto, sotto. Ok, il buglietto vincente amici. Il nostro cuccioletto ci dà qualcosa. Vediamo, troviamo il bonus. Il bonus è il fiore. Cibo, collana, trasportino e fettime. Coccarda, no, modaletta, scusate. Corbici, casa, cucina, lattina e albero. No. Qui ci dà il premio con la faccola rossa che ci dice 3 euro. In questo bugliettino, il numero 23, si è ripagato. Adesso passiamo a un miliardario, numero 42, serie 55. Numeri 11, 29, 44, 21, 23 e 22. Primo numero abbiamo 45, 24, 70, 21, però no 24, 19, 15 e 39. Continuiamo con 33, 13, 32, 17 e 26. No, non c'è. Abbiamo 46, 40, 11, 25, no. Ultima possibilità, 30. Niente, il buglietto non vincente amici, numero 42. La serie 59. Ok. Continuiamo con una battaglia navale, numero 32, io la faccio 30. Forse qui dobbiamo accudere un po', va bene, penso che va bene. Allora, prima coordinata. F4. Poi abbiamo F1. F5. C4. F5. 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 V3. F6. poi abbiamo E1, acqua, A7, acqua, H5, l'ultima vostra bugga, H4, battaglia 9-30 amici, vediamo lo scrignetto, l'ultima vostra bugga, battaglia 9-30 amici, numero 32, ok, allora carissimi amici, oggi abbiamo grattato 1-2, 1-2, vediamo l'altro, mi sembra che ne avevo un altro, no, allora 1-2, 2 buggetti da 5, poi 1-2, 3 buggetti da 3 e 3 buggetti da 2, ok, abbiamo ripreso, il nostro recupero è stato 3 euro con i cuccioli, 3 con i cuccioli e 2 con il 10 bar, e questo è il nostro recupero di oggi, oggi andava così, ringrazio a tutti per la visione, amici, vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi, condividetevi, ciao a tutti amici, un bacio e un bacio alla luna, ciao, al prossimo video!